Ciao a tutti, faccio questo video perché, come nel 90% della popolazione, non riesco a contenere l'entusiasmo per l'imminente album dei Radiohead. Tralasciando la parte marketing strana, che si cancellano dai social, mandano le cartoline ai fan, le cagate del genere, che a me non me ne frega nulla, io mi concentro sulla musica, cioè è la prima volta da tantissimo tempo che aspetto un album dei Radiohead con un'ansia e un'emozione infinita. Penso che l'ultima volta che è successo è stato con In Rainbows, perché In Rainbows diciamo sì carino, ma non mi ha mai entusiasmato così tanto, anche se c'era proprio gente fomentata da questo disco, per non parlare di King of Limbs, che a me non era piaciuto per niente, di quell'album mi ricordo solo Lotus Flower, tutte le altre le ho dimenticate, cioè secondo me era proprio un album di scartini, poi durava mezz'ora, ma che me ne faccio? Cioè l'avrò ascoltato non so quante volte per cercare di rivalutarlo, ma erano tutti abbozzi di canzoni, alla fine non mi lasciava niente, ma così come il secondo album di Tommy York, come il disco degli Atoms for Peace, cioè beats buttati a caso, terapie sonnolente contro l'insonnia e cose che non mi lasciavano nulla. Fino a che il 25 dicembre, quindi Natale, è uscita una canzone bellissima, che è Spectra, e in questi giorni diciamo che si è alzato un polverone, perché sono usciti due giorni fa il singolo Burn the Witch, e oggi Daydreaming, con tanto di annuncio che l'album nuovo uscirà l'8 maggio, non si sa ancora nessun titolo, tra l'altro pronto per il mio imminente compleanno, quindi sì, sto chiedendo a qualcuno di regalarmelo, a prescindere. Adoro questa strada che hanno preso, hanno abbandonato un po' i beats a casaccio, il songwriting buttato lì, che poi Burn the Witch in realtà non è neanche una canzone nuova, ma fa niente, perché ci piace così, con quest'uso degli archi, bellissimo, evocativo. Burn the Witch è un pezzone, secondo me, non è neanche una lagna, perché Tom York è una lagna, cioè evitiamo di fare quelli che devono parlare per bene e per forza, cioè ha una voce lagnosa. Però Burn the Witch a me ha fatto venire dei brividi alti così, poi il video è bellissimo, e anche Daydreaming è un pezzo lagna alla Radiohead, però bellissimo, cioè mi ha fatto venire anche quello dei brividi altissimi, e quindi io non riesco a contenere l'emozione, anche perché poi i video sono finalmente stupendi, cioè le cose bellissime, quindi sento che c'è una cura maggiore nel progetto rispetto a The King of Limbs, che alla fine sembrava un disco uscito per contratto quasi. Qua invece c'è proprio una cura dei suoni, del songwriting, dell'artwork, mi sembra finalmente un progetto che mi fa stare così... e mi sembra di tornare all'adolescenza, quando li ascoltavo, ascoltavo Karma Police, piangevo nella stanzetta, ecco sì... Finalmente sono tornati, è bello vedere quando gli artisti che tu accantoni, perché pensi che sei troppo vecchio per loro, tornano e ti sconvolgono, no? Però tipo con Vasco Brondi non accadrà mai più, penso. E detto ciò io non vedo l'ora, magari lo recensirò, non lo so, o lo ascolterò in lacrime, fatto sta che io non riesco a contenere l'emozione. E detto ciò vi saluto, mi torno ad ascoltare i due pezzini che sono usciti, spero che non duri ancora mezz'ora, perché mi sono rotto le palle di aspettare anni e poi avere una cagata, ecco. Però diciamo che promette bene sulla carta, quindi sono contento. Ciao a tutti!